La fiera SIGEP nel corso degli anni ha acquisito sempre più valore per noi e credo per tutto il comparto caffè. Da sempre riferimento del mondo della pasticceria e del gelato, negli ultimi anni è diventata anche un riferimento per il mondo del caffè. È un'occasione per incontrare i nostri distributori, ma anche nuove opportunità e nuovi potenziali clienti. È una fiera che ha saputo interpretare in modo innovativo l'evoluzione del caffè.